Musica Buonasera e bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. La pagina del lavoro in apertura, 12 mila posti persi nel settore dell'edilizia, la CGL, lancia lo sciopero alla rovescia con manifestazioni nelle aree dove ci sono opere bloccate dalla burocrazia, iniziative dove ci sono nuclei di disoccupati edili che rivendicano il lavoro. La CGL, la filea CGL, lanciano l'allarme sulla crisi del settore edile in Abruzzo, seconda regione d'Italia dopo la Sicilia a far registrare i dati più negativi. Nel periodo pre-crisi i lavoratori con rapporto subordinato erano 52 mila, al 31 dicembre 2014 23 mila, cui si sono aggiunte 17 mila partite IVA. La perdita secca di posti di lavoro è pari a 12 mila unità. I sindacati lanciano allora uno sciopero alla rovescia. A fronte di 1700 ore di lavoro anno è prevista nel settore, inoltre la media abruzzese di 670 ore. Questo, secondo le due sigle, potrebbe voler dire che c'è lavoro grigio o lavoro a tempo determinato per pochi mesi all'anno. C'è una crisi evidente delle imprese, hanno sottolineato in conferenza stampa i segretari regionali di CGL, Fillea Gianni Di Cesare e Silvia Micucci. I dati stridono con il fatto che l'Abruzzo è il cantiere più grande d'Europa per via della ricostruzione post-terremoto del 2009. Come risolvere, si domandano i sindacati. Innanzitutto prevedendo opere pubbliche, la risposta di Cesare a Micucci. Denunciano inoltre il fatto che nelle aree del cratere non partono lavori per 400 milioni di euro, i cui progetti sono stati approvati, significa che non ci sono soldi. La situazione è analoga nelle aree extra cratere sismico, per 122 milioni di euro. Nell'area del cratere, 5.553 lavoratori, cioè più della metà di quelli impiegati, vengono da fuori regione. Questo non possiamo impedirlo, aggiungono i sindacati, ma si rivendica la necessità di dare risposte alla manodopera edile abruzzese attualmente bloccata. Torniamo all'antico con lo sciopero alla rovescia. Indicando due punti, hanno annunciato di Cesare a Micucci, manifestazioni nelle zone abruzzesi dove ci sono opere che potrebbero partire, ma sono bloccate dalla burocrazia e iniziative laddove ci sono nuclei di disoccupati edili che rivendicano il lavoro. L'Abruzzo ha un'occasione storica per diventare un'avanguardia nel lavoro edile anche in Italia, ma che non è sfruttata. Quindi noi chiediamo sostanzialmente alla regione di aprire un tavolo sul settore edile e chiediamo agli comuni di porre grande attenzione il patto di stabilità oggi a degli spazi che può essere sfruttato, come chiediamo alle grandi strutture, ANAS, ferrovie ed altri soggetti importanti, di investire in Abruzzo. Noi per sollecitare questa cosa faremo nei territori e sceglieremo i territori in maniera oculata sciopere alla rovescia, cioè sostanzialmente decideremo in quel territorio di denunciare l'alta tasso di disoccupazione edile oppure denuncieremo il fatto che un cantiere in quel territorio non parte. Il Consiglio regionale riunito oggi all'Aquila ha approvato all'unanimità la risoluzione urgente presentata dal Presidente della Quinta Commissione Mario Livieri in merito alla sospensione delle attività del blocco operatorio dell'ospedale di Atessa in vigore dal 7 aprile scorso. Si riaprono dunque i termini della questione con un tavolo da convocare nei prossimi giorni. L'epilogo non è piaciuto però ai circa 300 manifestanti che hanno protestato tutto il pomeriggio intorno a Palazzo Emiciclo in attesa dell'uscita dei consiglieri regionali di centro-sinistra e in particolare dell'assessore alla sanità Silvio Paolucci al centro della contestazione. In mezzo ai manifestanti è anche il segretario regionale di Abruzzo Civico Giulio Borrelli, movimento che fa parte della maggioranza. La gente è arrabbiata e esasperata, ha detto Borrelli perché non accetta la chiusura dell'ospedale, smantellato nel corso degli anni e destinato a diventare un volatorio per anziani dopo essere stato struttura di prestigio. La risoluzione consentirà che nei prossimi giorni siedano allo stesso tavolo i sindaci della zona oggi in aula insieme all'assessore Paolucci e all'ASL di Chieti affinché si producano ulteriori riflessioni sul presidio di Atessa. E poi sulla questione è intervenuto il consigliere regionale Mario Olivieri, il quale oggi ha detto questo è il primo passo per riaprire la discussione sul futuro dell'ospedale di Atessa e per il riesame del provvedimento di chiusura del blocco operatorio. L'approvazione della risoluzione rappresenta la naturale conseguenza, ha aggiunto Olivieri, dell'impegno dei rappresentanti regionali per escludere la chiusura dell'ospedale San Camillo dell'Elli e se individuare soluzioni alternative alla volontà del Ministero della Sanità. Ma sentiamo appunto l'intervento del consigliere regionale Mario Olivieri dalla regia. Le nostre ragioni sono quelle di tenere aperta almeno una dei sargeri nell'ambito anche di una casa della salute, quindi una chirurgia di terzo livello per poter continuare ad assicurare al territorio a una vasta utenza perché da Castiglione Messer Marino fino a scendere ad Atessa, sono diverse decine di comuni, quella chirurgia di base è essenziale anche per continuare a dare una referenza anche al territorio rispetto all'ospedale di Atessa che diversamente si vedrebbe chiusa alla lunga, diventerebbe una casa di riposo. La pagina politica finisce in cronaca nazionale, la vicenda dell'avvocato Antonio Boschetti condannato in primo grado nel processo Sanitopoli e incaricato della consulenza nel post terremoto all'Aquila. La denuncia è di Maurizio Cerbo di Rifondazione Comunista. L'ex assessore regionale alla sanità, il san salvese Antonio Boschetti, è nell'occhio del ciclone. L'esponente del Partito Democratico, che attualmente però non ricopre nessuna carica politica, ha finito agli arresti durante lo scandalo del Turco, è infatti il responsabile dell'ufficio legale dell'associazione temporanea d'impresa composta da tre aziende, Acmar ed il Frairetta Dei, che all'Aquila si è giudicata il più grande appalto post-sisma. Ben 30 milioni di euro solo per il primo lotto dello Smart Tunnel. Lo Smart Tunnel è appunto un tunnel sotterraneo percorribile a piedi, all'interno del quale passeranno i principali servizi della città. Il caso è stato sollevato dall'ex consigliere regionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo. Innanzitutto abbiamo voluto rompere un clima di omertà che c'è in questa regione, dove se non solleviamo noi i coperchi delle pentole rimangono ben chiusi. Boschetti è condannato nell'inchiesta Sanitopoli a quattro anni, l'Abruzzo è ancora una regione commissariata nella sanità per quell'inchiesta che ha riguardato corruzione, concussione, associazioni a delinquere. Un condannato a quattro anni, un politico, viene incaricato di essere il responsabile legale, del più grande appalto pubblico per la ricostruzione dell'Aquila, che è quello che riguarda i sottoservizi della città. Parliamo di un primo lotto di 30 milioni di euro per una cifra complessiva che supererà gli 80 milioni di euro. C'è da domandarsi, in una città in cui la stazione appaltante dell'Opera è guidata da un uomo del PD, perché si tratta della società dell'acqua di Aquila, la Gran Sasso Acqua, che è guidata da un esponente del PD, di cui azionista è il comune dell'Aquila, che è un sindaco del PD, in una regione in cui il presidente della regione del PD è Boschetti, dichiara di esserne puro amico. Tant'è vero che Boschetti partecipa normalmente in iniziative pubbliche del Partito Democratico nel suo comprensorio. C'è da domandarsi come mai delle imprese che lavorano negli appalti pubblici si rivolgano a un politico condannato. In un paese normale dovrebbe essere il contrario. Posso dire che io sento puzza di sistema in questa regione, in cui quando non vengono prescritti i politici indagati o addirittura condannati, comunque il sistema fa sì che non rimangano a spasso e vengano ricollocati? A vasto fu uno stress a disorientare Capodogli e spiaggiati a Punta Derci il 12 settembre scorso. Quattro esemplari riuscirono a riprendere il largo, tre morirono. Questo è il risponso. Lo stress per condizioni ambientali non favorevoli è tra le cause attualmente più probabili del disorientamento che spinse allo spiaggiamento di massa il 12 settembre del 2014 sette Capodogli sulle coste meridionali abruzzesi della riserva di Punta Derci a vasto. Quattro esemplari riuscirono a riprendere il largo, mentre per tre non ci fu nulla da fare. A sette mesi dall'evento che mobilitò studiosi, forze dell'ordine e volontari, oggi risultati dell'esame necroscopico condotto da Sandro Mazzariol, che diresse le operazioni a vasto e coordina l'unità di intervento per la necroscopia dei grandi cetacei per il Ministero dell'Ambiente. Secondo l'esperto, il branco avrebbe seguito il suo leader, il soggetto femmina gravida di 40 anni, che però aveva un grosso calcolo renale. Alla base, poco cibo e disidratazione, situazione di stress che avrebbe prodotto disfunzioni cerebrali tali da far perdere l'orientamento, non quindi al momento fonti sonore. E a raccontare la cronaca di quei momenti concitati, arriva anche una mostra fotografica allestita dall'Associazione Amici di Punta Derci, che resterà aperta fino al 18 aprile a vasto. Di questi animali si è occupata anche la Facoltà della Scienza del Mare dell'Università della Spalmas in Gran Canaria e un orecchio è stato inviato in Canada, ma purtroppo le condizioni di conservazione non sono state tali da poter effettuare alcuna indagine microscopica efficace, dice Mazzariol, secondo il quale al momento l'embolia gassosa per esposizione a fonti sonore è stata esclusa. La presenza di bolle di gas che fu trovata nelle carcasse non sarebbe per Mazzariol diretta conseguenza delle ricerche petrolifere con tecnica dell'Airgun, come qualcuno ipotizzò. A tenere aperto il nodo degli eventi traumatici di origine antropica è il presidente nazionale del Centro Studi Cetacee Onlus, Vincenzo Livieri, che commentando le ipotesi conclusive di Mazzariol, sottolinea la difficoltà di appurare l'esatta causa della morte. È evidente, dice Olivieri lanciando una provocazione, che nei cetacei non c'è scatola nera. L'ipotesi di Mazzariol è accettabile, resta lo spiaggiamento di esemplari che complessivamente erano in buono stato di salute. Voltiamo pagina a Lanciano, la PFM per il concerto del 16 settembre e la lotteria con quattro automobili in premio. Le feste dunque si presentano in largo anticipo, a rischio resta il Luna Park nel Terminal Bus della Pietrosa. Sarà tutto per la premiata Forneria Marconi e il palco del 16 alle feste di settembre 2015 a Lanciano. Con largo anticipo il comitato feste, presieduto da Stefano Angelucci Marino, ha svelato il nome dell'ospite della serata clou, ma anche le novità con il ritorno della Questua è una ricca lotteria con quattro auto in palio. La PFM, gruppo rock italiano degli anni 70-80, dovrebbe richiamare in piazza plebiscito un pubblico ampio di più e meno giovani. I premi della lotteria mirano a coinvolgere la cittadinanza con il biglietto che sale di prezzo da 2,50 euro a 5 euro. È fondamentale, ha dichiarato in conferenza stampa il presidente del comitato feste, la partecipazione di tutti i lancianesi. Poi abbiamo organizzato delle nuove squadre di vendita, ripristinato la Questua, quindi da un lato la Questua agirerà autonoma e dall'altro squadre di vendita agiranno autonomamente sulla lotteria. Questo per far sì che la popolazione, la gente capisca che c'è bisogno di aiutare le feste di settembre affinché le feste siano belle e importanti. E per far capire che davvero ce la stiamo mettendo tutta abbiamo anticipato il gruppo che ospiteremo il 16 di settembre a Lanciano, e cioè la PFM. Da tanti anni non si vedeva una grande band importante in città, per fare questo c'è bisogno ovviamente di risorse economiche. Noi partiamo da subito, da aprile 2015, nella raccolta, da un lato come dicevo della Questua, dall'altro della lotteria, per poter attraverso la raccolta popolare riuscire a mettere insieme tutti quei soldini che servono per fare delle belle feste. In attesa di conoscere i protagonisti delle altre serate, il vice sindaco Pino Valente fuga dubbi sui fuochi d'artificio che si faranno all'ex ippodromo. Sul problema fuochi non è più un problema, visto che l'anno scorso siamo riusciti con un'opera costante di confronto con le autorità di pubblica sicurezza a mettere a norma l'area. Quindi gli spari sicuramente si faranno nell'ippodromo, dobbiamo cercare di accogliere meglio i cittadini che vogliono vedere all'interno dell'ex ippodromo gli spari. Per quanto riguarda invece la sistemazione del Luna Park, tornano a galla i vecchi problemi, a rischio il terminal della Pietrosa. Sulle giostre si sta lavorando per verificare se finalmente i lavori del cantiere nella Pietrosa partiranno e quindi si concluderanno per le feste di settembre. Se così non fosse e se così fosse dobbiamo trovare delle aree alternative. Però su questo si sta vedendo, c'è ancora un po' di tempo. Quello che mi piace sottolineare è che le feste di settembre sono le feste dei lancianesi. Quindi la città si stringa attorno alle nostre tradizioni, alle nostre usanze, a un momento di festa gioioso che ricordiamo tutti quanti e che è nelle corde di ogni lancianese. Le feste di settembre sono della città, non sono di questa amministrazione comunale, non sono del comitato, ma sono di tutti. I comitati e le amministrazioni passano, le feste di settembre restano. Quindi chi vuole bene alle feste di settembre lo dimostri fattivamente dando la propria contribuzione e la propria collaborazione. Quindi siamo certi che la città risponderà e si stringerà a fianco al comitato per avere delle feste di livello. Insegnare alle mamme come comportarsi in caso di rischio soffocamento dei loro bambini. Due corsi formativi a Pescara promossi da Adricesta e Chivanis. Troppi bambini muoiono per soffocamento, anche per l'incapacità di saper intervenire. Incidenti avvengono ovunque, a casa o in luoghi pubblici, magari fra tanta gente che ignora come con pochi gesti si possa salvare una vita. Il club Chivanis a Ternum di Pescara ha organizzato due giornate formative in collaborazione con Adricesta Onlus e con l'Istituto Comprensivo Tinozzi Borgomerino di Pescara. A formare le giovani mamme intervenute gli esperti della Croce Rossa italiana. Franco Coletti, presidente del Chivanis Club Aternum Pescara. Il 30% delle morti da soffocamento è relativo all'ingerimento di corpi estranei e nei momenti subito successivi all'accaduto è determinante, importante, l'intervento tempestivo e adeguato con manovre che risultano assolutamente salvavita. Anna Rita Bini è dirigente scolastico della Tinozzi Borgomerino. Diverse sono le nostre iniziative in tal senso collaborazioni con l'Adricesta, Amico Medico e anche ora con il Chivanis. a aumentare delle competenze e anche, come dico sempre, a fare esercizio di solidarietà. Saper cosa fare è importante, ma anche sapere cosa non fare, ci spiega Maurizio Erodiani, Croce Rossa a Pescara. Allora, di certo c'è una politica popolare di prendere il bambino dai piedi e metterlo a testa in giù. Assolutamente, è una manovra sbagliatissima. Carla Pansino, presidente di Adricesta Onlus, auspica sensibilità ed interessamento concreto da parte del presidente della Regione e dell'assessore alla Sanità. E ci auguriamo di poter portare questo progetto che diventi un progetto istituzionale, non per chiedere i soldi alla Regione, ma soprattutto per averli accanto e poter distribuire questi corsi sia ai genitori che agli insegnanti, ma tutta anche la società civile, per poter arrivare a un risultato, quello di salvare forse un giorno una vita umana senza domandarsi del perché un bambino non c'è più. La pagina dello sport, il calcio di Serie B, la Virtus cercherà a Crotone i punti necessari per una salvezza certa. Ieri nella trasmissione ufficiale Virtus Lanciano il direttore generale Camillo D'Alessandro ha annunciato che i lavori del nuovo stadio potrebbero iniziare nel 2016. E adesso lo scida per interrompere la serie negativa in trasferte e dare un segnale di vitalità anche fuori dal Biondi. Dopo aver superato indenni le trasferte di fila di Vicenza e Perugia, i rossoneri fuori dall'impianto di casa hanno poi perso a Vercelli e Livorno, tra episodi contrari e prestazioni meno brillanti del solito. Contro il Crotone di Massimo Drago, una delle squadre più in forma del momento, ancora a caccia di punti salvezza, si cercherà di interrompere il trend negativo. Oggi la Virtus si è allenata solo di mattina agli ordini del vice Tarozzi con D'Aversa impegnato a Coverciano. A parte si sono allenati Paghera, Turchi e Agazzi, mentre il centrocampista Grossi è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo. Antonio Piccolo ha segno contro il Latina e si gode il suo settimo sigillo stagionale, pensando comunque positivo. L'importante era non perdere per non complicarsi poi il cammino di queste ultime sette partite. però sicuramente dobbiamo stare tranquilli perché c'è stata sia la prova sia la reazione dopo il gol loro, quindi una Virtus da Dello già. Basterà vincere a Crotone? Eh, noi ci prepariamo per quello, poi ci sono anche gli altri in campo. L'amarezza a mente fredda riguarda ancora il gol non concesso a Capitano Mammarella contro i Pontini e ieri in Virtus Lanciano trasmissione ufficiale rossonera le attenzioni del direttore generale Camilo D'Alessandro si sono soffermate proprio sull'episodio e sulla necessità di ricorrere alla tecnologia. La Virtus ha proposto da tempo gli assistenti di tribuna, due ex arbitri che, con l'ausilio delle immagini e della Moviola, potrebbero dare un consistente aiuto all'arbitro in caso, appunto, di episodi dubbi. Lo stesso direttore ha annunciato l'iter avanzato per la realizzazione del Parco Virtus, con la costruzione di uno stadio di proprietà da 12.700 posti, campi di allenamento, una pista ciclabile, servizi vari, costo totale circa 50 milioni di euro. Prima pietra prevista per il 2016. Continuate a seguirci come avete fatto sino ad ora, abbiate fiducia che possiamo ancora divertirci perché, tutto sommato, questa è una squadra che ha dato delle soddisfazioni anche sotto il profilo estetico quest'anno, io non lo dimentico mai. Indubbiamente non si possono giocare 42 partite allo stesso livello perché non riesce a farlo neanche la Juventus e vediamo Parma-Juventus 1-0, direi che è una delle più grandi sorprese della stagione. Per il resto, siamo assolutamente convinti di poter fare un grande finale di stagione. Intanto, la società ricorda che da domani e fino a sabato sarà possibile acquistare i biglietti in prelazione per il derby in programma il prossimo 25 aprile. Per usufruirne sarà indispensabile presentare il tagliando della partita Virtus Lanciano Latina. La normale prevendita inizierà da domenica 19. Si entra già in clima derby. E a Pescara, Marco Baroni esorta la squadra a darsi una svegliata, ma i tifosi sono delusi dal tecnico. Oggi il ricordo di Pier Mario Morosini, prematuramente scomparso tre anni fa. Dobbiamo darci tutti una svegliata. Così Marco Baroni ha la ripresa degli allenamenti, dichiarazioni che creano anche ironia e larità tra gli sportivi pescaresi sui social network. Il primo a doversi svegliare è l'allenatore, che commette errori in continuazione e sostengono in molti. Insomma, Pescara si interroga dopo le due sconfitte consecutive contro Brescia e Frosinone, che hanno fatto uscire la squadra dai play-off. Poche idee di gioco, la solita perforabilità. Per la partita di sabato prossimo contro il Modena non ci saranno Salamone e Melchiorri, squalificati, e non sarà poco. La dirigenza, dopo aver confermato la fiducia al tecnico, ha varato l'operazione riempimento. Sabato allo Stadio Adriatico i biglietti saranno a un euro per curve e distinti. E Baroni, sempre nell'occhio del ciclone, si sente come blindato, dice di non aver mai temuto l'esonero e spiega le sue ragioni. Abbiamo parlato dopo immediatamente finita la partita insieme a Giorgio e al presidente di vederci la mattina ma per fare un'analisi di quello che era successo. Ma non altri discorsi. Io non ho sentore di questo, ma credo che anche il presidente abbia spesso parole in questo senso. Quindi chiudiamo questo argomento e andiamo avanti. Nel senso che è inutile continuare a parlare di questa situazione qui. credo che la società mi abbia dimostrato anche nei momenti in cui veramente c'erano delle condizioni anche perché i primi due mesi sono stati difficili di darmi fiducia di aver fiducia in me nella squadra. Adesso siamo anche in una condizione completamente diversa di classifica e se siamo in questa condizione è perché abbiamo fatto qualcosa di veramente importante in questo percorso. Questo però non è sufficiente bisogna dare tutti di più sicuramente in primis io e la squadra. Intanto cambio di programma per la trasferta di Avellino dopo il derby di Lanciano. si giocherà in posticipo domenica 3 maggio alle ore 18. Infine oggi il 14 aprile triste anniversario. Tre anni fa allo stadio Adriatico durante Pescara Livorno morì il calciatore Bergamasco Pier Mario Morosini crollato a terra durante un'azione di gioco inutili i soccorsi dei medici presenti allo stadio. Morosini è morto a 25 anni poi le infinite indagini i processi la legge sui defibrillatori in campo e tutto il resto. oggi è solo la giornata del ricordo. Il Tg Max termina qui vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo che Tg servizi e programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it ci trovate anche al nostro canale YouTube e profili ufficiali dei social network Twitter, Facebook e Google Plus grazie ancora per l'attenzione arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.